Villa d'Este, Cernobbio, Forum Internazionale, Conftrasporto. Ci troviamo con Paolo Ugè che di Conftrasporto è presidente e ha appena tratto le conclusioni finali di questo forum. Dottor Ugè, che cosa ne è venuto fuori, cosa le è rimasto impresso degli interventi? Beh, innanzitutto la dimostrazione di come se noi affrontiamo i temi legati all'autotrasporto, secondo una logica di sistema, cioè che coinvolge le altre modalità di trasporto, che sono il mare, che sono la gomma e che fanno parte delle federazioni aderenti al contratrasporto, riusciamo ad interessare il mondo politico, colui che prende le decisioni, il mondo sindacale, per poter affrontare quelli che sono i temi fondamentali per dare competitività al Paese. Ecco, l'elemento che veramente mi è rimasto impresso da queste due giornate di lavoro è il riconoscimento del Ministro del Rio che dice che finalmente si parla di logistica, noi siamo pronti ad ascoltare il paziente, ci ha chiamato paziente il Ministro del Rio. Bene, noi vogliamo collaborare con il Governo proprio impostando le cose secondo una logica di sistema e non solo settoriale, perché settoriale ci chiudiamo in noi stessi e non affrontiamo i temi per quelli che realmente sono. Ecco, dottor Uggè, c'è stato, devo dire, un bel parterre di ministri, ex ministri, sottosegretari, ex sottosegretari, lei incluso ovviamente. E di che cosa, diciamo, si è parlato da un punto di vista extra gomma? Perché è stato molto importante, si è dato molto spazio a quello che è la portualità, la portualità connessa con la ferrovia e connessa con l'autostrada. E in Italia sappiamo che sono sempre i colli di bottiglia i problemi. Esattamente, la chiave di svolta è proprio questa, e cioè abbiamo voluto raccontare quello che è avvenuto o non avvenuto in modo sufficiente nel Paese attraverso l'esperienza di coloro che hanno ricoperto la carica di ministri dei trasporti nel decennio passato. Da lì abbiamo evidenziato come le scelte che venivano fatte non erano mai portate a compimento. Lunardi ci ha illustrato come erano state stanziate delle risorse e poi non sono state spese, perché le opere si sono rallentate per interventi a livello regionale. E questo ha portato il tema della necessità di rivedere il titolo quinto e quindi ridare al centro le competenze per decidere quali interventi realizzare. Abbiamo evidenziato la questione dei porti. Per uscire dai nostri porti occorrono 18,5 giorni. Quando in Europa parliamo di mediamente 8-9 giorni. Allora è evidente che tutto questo non ci porta a competere. Le ferrovie stesse se non realizzano quelli che sono gli interscambi con le modalità che sono le modalità marite e le modalità stradali e non sono aiutati attraverso interventi opportuni, riconosciuti legittimi a livello comunitario, noi non riusciamo a fare una politica dei trasporti adeguata. Ma per questo bisogna portare a sistema tutte le varie modalità. Il vero compito di questa importante giornata di dibattito è quello proprio di evidenziare la necessità di affrontare i temi a un livello più alto, a un livello appunto di sistema logistico. Allora, dottor Rugge, un'ultima cosa. Da devoluzione a riforma del titolo quinto e direi anche a questo primo forum internazionale con illustri presenze straniere. Ci sarà un secondo? E cosa pensa del ritorno alla centralizzazione di certe decisioni? Beh, è evidente la richiesta che noi abbiamo avanzato da tempo. Non è possibile prevedere che in un sistema che affronta e che interviene sulla mobilità generale del Paese sia consentito alle realtà territoriali, pur riconoscendo la loro importanza, ci mancherebbe altro, di poter bloccare delle opere riconosciute strategiche e necessarie per lo sviluppo dell'economia. Quindi la riforma del titolo quinto, attraverso la modifica dell'articolo 117 della Costituzione che è in questi giorni in via di approvazione, è certamente un fatto importante che ci vede profondamente d'accordo. Ma ci vede profondamente d'accordo perché da qui si può partire per costruire qualcosa di nuovo. Quando un'opera è riconosciuta di interesse nazionale, beh, non può essere consentito. Fate le dovute, consultazioni con le popolazioni, i vi residenti, ci mancherebbe altro, ma non si possono più bloccare gli interventi. E quindi questo è un fatto importantissimo. Da qui, inoltre, la necessità. Abbiamo fatto, direi, un investimento. Abbiamo aperto un modo nuovo di ragionare. e ci siamo confrontati con tutte le altre realtà. Beh, smettere e dopo la prima edizione non far seguire la seconda sarebbe un delitto. Beh, allora aspettiamo la seconda. Un grazie a Paolo Uge, presidente di Conf Trasporto. E per oggi, qui da Cernobbio, Villa d'Este, è tutto. E per oggi, qui da Cernobbio, Villa d'Este, è tutto.